Amo, basta! Io da oggi faccio quello che mi pare. Voglio uscire con gli amici, esco con gli amici. Voglio andare in palestra, vado in palestra. Mi voglio ritirare alle tre di notte, mi ritira alle quattro di notte. Basta! Dicevi? Hai capito? Qui lo scemi Roberto che dittammo ieri. Questo è stordo proprio.